E ovviamente adesso vi parliamo di Temptation Island e ve ne parliamo in quanto stasera 22 luglio c'è la nuova puntata di Temptation. Che oltretutto ve lo ricordo sta avendo veramente un successo esagerato. Sempre sopra il 23% anche in un periodo come questo in prima serata è un vero record. Ovviamente nella puntata ci sono già diverse coppie che sono partite. Ovviamente vi stiamo parlando di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica e non ultimi i nostri David Scarantino e Cristina in Corvaia. Su di loro una piccola anticipazione però ve la voglio dare io, infatti sembra che dopo che hanno lasciato la trasmissione insieme, qualche problema nella coppia si sia ripresentato. Insomma si parla di un altro litigio. Credo che a questo punto ne sapremo qualcosa di più a Uomini e Donne o Vara Settembre. Quello che vedremo stasera a Temptation Island nella quarta puntata. Secondo quanto svelato dal magazzine Uomini e Donne stasera vedremo un weekend da sogno delle coppie con i single. Ma ci saranno anche immagini molto forti ad un falò dove praticamente cambieranno e rivoluzioneranno le sorti di una coppia. Insomma pare proprio che Massimo e Elena siano sempre più vicini. Mentre per quello che riguarda le altre coppie, ossia Vittorio, Katia, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria saranno sempre più duramente messi alla prova dai loro tentatori. In particolare vedremo Nicola molto in difficoltà con la bella Magdalena. Ma anche Vittorio sarà molto tentato da Vanessa e a momenti non ci scappava il bacio. Ma non solo infatti Uomini e Donne Magazine farà altre importanti rivelazioni che riguardano in particolare una coppia. Infatti uno dei due deciderà alla fine di non partecipare al weekend da sogno e sarà in grossa difficoltà. Ma vedremo anche una ragazza che lascerà il falò in quanto convinta che il suo lui ormai non la stia più pensando. E come vi dico sempre, Temptation Island bellissima trasmissione, ma solo da guardare in televisione, sconsigliata da fare con il proprio fidanzato.